Grazie, come dire, di solito quando arriviamo a questi incontri della Fondazione dei Baracchi viene offerto un cioccolatino, oggi in realtà servirebbe una bella dose di caffè proprio per prepararci, per tirare fuori tutte le energie, in particolare gli umanisti come me sono molto devoti e referenti nei confronti del professor Mecocci perché saremo quelli che si perderanno per strada rapidamente ma sono convinto che le sue capacità divulgative ci aiuteranno non poco. Nell'immaginario collettivo quando si parla di intelligenza artificiale si parla di una cosa che non comprendiamo, molto sfuggente infatti noi abbiamo messo nel titolo noi e i robot, la parola robot ci rassicura abbiamo in mente questi omini meccanici che si muovono un po' a scatti, ricordate il gruppo musicale dei Rockets e che magari quando crescevamo pensavamo che un giorno ci avrebbero servito il caffè in effetti ho scoperto professore che addirittura c'era un robot brevettato nel terzo secolo avanti Cristo e una cosa molto artigianale che serviva a versare in una coppa del vino quindi evidentemente questo bisogno l'uomo l'ha sempre sentito ma non è così che è andata la storia è il robot meccanico che immaginavamo è diventato qualcosa di diverso di molto più liquido, di molto più fluido che circola nelle nostre vite anche se non ce ne accorgiamo per esempio noi molto spesso lo chiamiamo il robot dell'intelligenza artificiale quando diciamo per esempio in casa che programmi ci sono stasera lo chiediamo a Google oppure chiediamo a Alexa che tempo fa ancora più avanti si è arrivati con quella che è la computer vision di cui si occupa direttamente il professore quindi con il riconoscimento facciale quindi l'intelligenza artificiale ha occhi simili ai nostri ha una voce che si avvicina e piano piano sta andando avanti entra in tutti i campi, in tutte le discipline facciamo solo un esempio che ci torna anche molto comodo nella medicina, molto presto questa intelligenza artificiale potrà farci le visite a distanza oltre che darci dei ottimi elementi per capire se siamo malati o meno e sicuramente potrà intervenire in maniera molto precisa e nitida in sala operatoria da una parte quindi delle possibilità, delle potenzialità straordinarie dall'altra degli enormi rischi probabilmente se siamo dei pericolosi malviventi ci potrà scovare in qualunque parte del mondo ma se siamo delle persone in pace vogliamo prenderci un attimo di distrazione dal nostro quotidiano ci raggiungerà lo stesso e quindi l'idea dell'incontro di oggi di capire un po' meglio innanzitutto che cos'è questa intelligenza artificiale come in questo momento viene utilizzata con applicazioni che forse neanche conosciamo e dove può portarci quali sono le potenzialità ma anche i rischi sta creando grande economia ma porterà via anche tanti posti di lavoro e quindi per avventurarci in questo abbiamo individuato il professor Mecocci che ha un curriculum straordinario come diceva Sandra pensate quasi 30 anni fa lui ha curato tutta la supervisione tecnologica della mummia di Similaun una delle tre più antiche esistenti al mondo pochi anni dopo ha realizzato un museo a Monticchiello che per la prima volta aveva delle dotazioni legate a come entravi nel museo a come muovevi le mani o riconosceva lo sguardo siamo alla fine degli anni 90 e poi tante altre sue scoperte in ambito scientifico applicate alla medicina, alla biologia alla logistica, ai trasporti quando passate un po' veloci in autostrada perché avete un impegno urgente e poi vi arriva una multa a casa ricordate il professor Mecocci perché è l'inventore del tutor che si usa in autostrada e magari forse quel ricordo lì non sarà altrettanto piacevole come vedete come vedete gli elementi per entrare in questo mondo così misterioso per noi sono tanti e allora la chiave d'accesso la offriamo al professor Mecocci e sarà una bella avventura magari non paragonabile a Blade Runner o a Matrix ma sicuramente molto appassionante quella che vivremo da ora in poi prego professore grazie forse un po' più in alto grazie allora buonasera a tutti mi è successo un po' di tutto quindi sono arrivato un po' in ritardo ma spero di farmi perdonare allora questa tematica è impressionante anche per me che me ne occupo da quasi 40 anni anzi più di 40 anni sta succedendo qualcosa di diverso cercherò di farvi capire perché sta cambiando davvero qualcosa e ce ne rendiamo conto noi per primi e sicuramente una cosa che è cambiata è la velocità io vi parlerò nemmeno degli ultimi 10 anni e in 10 anni l'intelligenza artificiale ha fatto dei progressi straordinari allora come me la volevo giocare mi ero preparato una breve curriculum vitae ma non abbiamo tempo di andarcelo a guardare perché sarò in ritardo su tutti i fronti ci metto meno che posso ma è lunga ho fatto un curriculum brevissimus nacqui 64 anni fa e ringraziando Dio eccomi qua questo è quello che basta diciamo fino a un po' di tempo fa quando le macchine che sono state citate perché per voi Alexa e Google sono l'ultima generazione delle novità ma sono vecchissime e se gli facevi una domanda del tipo tu sei capace di scrivere i promessi sposi scolpire la pietà la relatività generale comporre la quinta di Beethoven eccetera eccetera lui ti risponde scusa non ho capito bene oppure ripeti la domanda oggi esistono macchine che invece dicono e tu sei capace di farlo e questa apparente switch così semplice nella risposta però denota la capacità A di fare ironia B di comprendere che cosa gli è stato chiesto C di risponderti a modino come si suol dire e questo è quello che sta succedendo quindi realmente è stata toccata ora una diversità che non si vedeva da tempo e che si aspettava ed è stata toccata negli ultimi cinque anni ci ha messo cinque anni questo affare per arrivare ad essere come vedrete disponibile a tutti allora io ho provato a semplificare a casa mi ci sono messo io uso mia moglie come tester che lei poverina si sorbisce più di voi tutte queste cose ho cercato di dividere di queste sei cose ne coprirò forse tre e nemmeno completamente allora dice perché ce le mostri perché magari poi saltano fuori domande e si può andare a salticchiare quella le ho preparate per prima bisogna però partire da qui io non faccio quasi mai nelle mie conferenze sconti a nessuno io cercherò di farvi capire che cos'è questa intelligenza artificiale perché non è così intelligente come sembra e però perché è così potenzialmente dirompente per fare questo ho bisogno di due o tre cosette simboli macchine di Turing cervello umano queste mi servono per dire delle cose sull'intelligenza artificiale prendo un computer di quelli moderni ci guardo dentro trovo un sacco di roba collessa incomprensibile però se guardo concettualmente dentro ci trovo una robetta che è Alan Turing 1936 la cosiddetta macchina di Turing cioè un nastro con dei simboli che la macchina poteva leggere e cambiare e poi poteva fare andare avanti e indietro questo nastro e scriverci e leggerci sopra questa è la macchina di Turing una cosa così sciocca è quella che noi chiamiamo una macchina computabilità massima perché questo oggetto così sciocco è in grado di eseguire qualsiasi tipo di elaborazione in tutti i modelli computazionali oggi noti all'uomo che non sono due o tre sono più di una venticinquina di modelli computazionali lambda calculus 2k ce ne sono a pacchi cosa è che c'è dentro un computer un sacco di roba ma alla fine si finisce con un'unità di calcolo la CPU che è quella che legge e scrive dentro un nastro che è da RAM la memoria e qui c'è una importante cosa spero che sia abbastanza chiaro se ci sono ci sono delle caselle elettroniche fatte come in una maniera che non ci interessa nemmeno tanto ma la cosa importante è che lì dentro c'è un codice digitale e ancora più importante quel codice rappresenta un concetto rosso tondo pesante leggero alto ma un concetto cioè un simbolo va bene queste macchine per quanto complesse manipolano simboli che cosa vuol dire che se io voglio descrivere una mela poi dirò che viene da un albero che si chiama melo e l'albero melo il melo è un simbolo che ha una forma tondeggiante tondeggiante è un simbolo che è grossa 10 centimetri pesa un tot è rossa una serie di simboli e per simbolo ricordiamo a tutti si intende un segno una parola che ha un significato o viene interpretata come se fosse un'idea un oggetto o una relazione noi parliamo per simboli io vi sto sparando un pacco di simboli e fortunatamente come diceva Aristotele i simboli hanno un senso soltanto per coloro che hanno stipulato la convenzione perché? perché significano la stessa cosa per tutti voi riuscite a decodificare più o meno anche se Wittgenstein diceva che ognuno di noi ha la sua rappresentazione il mio caldo non è il suo caldo però riusciamo a capirci abbastanza bene con i simboli va bene? le macchine fino ad oggi sono state manipolatori di simboli quindi per quanto sia il vostro computer complesso dentro alla fine c'è una CPU che legge e scrive da una memoria la RAM che cosa? in specifiche posizioni della memoria ci sono simboli che hanno un significato quindi siamo in grado di capire in altre locazioni della memoria ci sono altri simboli di un linguaggio che noi chiamiamo di programmazione sempre simboli comprensibili per noi così che alla fine della catena c'è un uomo che chiamiamo programmatore che conosce i simboli di un linguaggio di programmazione che è in grado di istruire la macchina per fare esattamente quello che vogliamo e se la macchina non fa esattamente quello che vogliamo lo chiamiamo bug errore e lo correggiamo il programmatore lo corregge quindi qual è la caratteristica dei computer così come li conosciamo sono programmabili programmabili significa che io li posso istruire per fare quello che voglio e quello che voglio io lo so e lo faccio capire anche alla macchina e quella che la macchina fa lo capisco anch'io in più sono spiegabili perché dentro le celle di memoria ci sono simboli che hanno un significato per noi rosso tondo pesante leggero e queste macchine manipolano simboli ed essendo spiegabili per questo si chiamano macchine simboliche possiamo interpretarne il comportamento fin qui ce l'ho fatta siete annoiati quando iniziate a essere annoiati fate sbadigli io capisco capisco anche sono abituato a capire vado dentro un'altra splendida macchina che ci è stata data un litro e mezzo di energia incredibile capace di funzionare con lo zucchero roba dell'altro mondo e che cosa ci trovo dentro neuroni queste cellule incredibili così ramificate splendide questi neuroni cosa fanno in realtà non rappresentano simboli non sono cellule di memoria prendono in ingresso dei segnali li amplificano o diminuiscono riducono attenuano questi segnali li sommano li distorcono un pochino e li mandano in uscita quindi dentro un neurone non c'è niente non c'è il simbolo rosso non c'è niente c'è un calcolo elementare una somma pesata e poi distorta inviata in uscita altra cosa i nostri computer una volta che uno ha scelto il modello il collegamento i fili che collegano sono fissi e vengono fatti in milioni di repliche tutte uguali quello che vedete a destra è un cervello mentre sta apprendendo i collegamenti fra i neuroni continuano ad essere modificati per tutta la vita dipendono dalle emozioni dal dolore dall'esperienza da se sono salito su un albero e sono caduto dal fatto se ho litigato se ho amato e ognuno di noi ce n'ha uno di quegli aggeggi lì completamente diverso dagli altri altro che impronte digitali noi siamo diversissimi il valore della persona è incredibile perché è l'unica che può elaborare le informazioni in quel modo lì per cui quando discutiamo teniamo conto del fatto che l'altro è sempre un qualcuno da cui possiamo apprendere qualcosa che altrimenti non avremo mai appreso questa è una mia io sparo un po' di opinioni personali però perdonerete qual è il concetto allora i simboli dove sono cioè questa è la la prima cosa importante mentre nei computer tradizionali la rappresentazione è simbolica se avete capito ragioniamo di roba che capiamo e manipoliamo simboli per dare risposte questo anche l'intelligenza artificiale simbolica ha sempre fatto così Mycin che era un consulente un knowledge based system per la medicina lavorava manipolando simboli nel cervello umano i simboli non ci sono ci sono questi elementi questi neuroni che sommano roba la pesano e la mandano a giro e si interconnettono fra sé quanti ce ne sono nel cervello umano da 80 a 100 miliardi le stelle del cielo neuroni se voi prendete che ne so il Madison Square Garden sono stato a trovare il mio figliolo proprio per Natale e siamo stati a vedere una partita di basket al Madison Square Garden è enorme l'avete visto ne prendete 10 fate un cubo di 10 per 10 per 10 square garden beh un neurone è una pallina da tennis più o meno per farsi un'idea delle dimensioni questi neuroni a centinaia di migliaia sono interconnessi fra sé io vedo una scritta divertente diciamo che 200 milioni di neuroni iniziano a trasmettersi dei segnali vedete non c'è un simbolo c'è una risposta collettiva il simbolo non sta da nessuna parte è quella che noi chiamiamo una rappresentazione distribuita scudate se vi annoio ma queste cose qua ci servono dopo per parlare di intelligenza artificiale se io sento un suono divertente altri centinaia di milioni di neuroni si attivano se vedo qualcosa di divertente altri ancora alcuni neuroni sono a comune cioè rappresenta uno stesso neurone più cose contemporaneamente al contrario della rappresentazione simbolica in cui in una memoria trovo solo quel simbolo lì bene allora che cosa succede per buona pace di tutti uomini e donne sono diversi fine collegamenti orizzontali collegamenti verticali questa è roba che basta prendere una tac e si vede punto allora McCulloch e Pitt McCulloch era un neurofisiologo Pitt era un logico matematico nel 1943 dicono beh ispiriamoci alla biologia questo neurone prende pesa gli ingressi li somma li distorce li butta fuori creiamo un modello matematico quelli che noi chiamiamo modelli caricaturali un modello si dice caricaturale quando si ispira genericamente a qualcosa ma non ne replica esattamente la il funzionamento ecco McCulloch e Pitt cosa fanno un neurone artificiale un aggeggio che si ispira al neurone biologico somma pesandogli gli ingressi li distorce e li butta in uscita e che cosa propongono beh come nel cervello umano dice più neuroni sono collegati fra di sé facciamo delle reti neurali artificiali artificial neural networks come li connettiamo beh quello verrà dopo anzi non ce la facciamo a parlarne però è bellissimo anche quello le topologie di interconnessione e le donne più intuitive gli uomini un po' più anche quello deriva da cose serie però il concetto fondamentale per esempio questa è una fully connected vuol dire che ogni neurone è collegato a tutti i neuroni precedenti e a tutti i neuroni seguenti collegato con cosa dei pesi quelli che ho chiamato W W1 W2 in questo subito esempio quindi una rete neurale la sua conoscenza dove ce l'ha distribuita e da dove sta nelle connessioni e nei pesi e qui ora arrivo al punto prendo una stupida nete neurale con due ingressi e due uscite questi sono i pesi che la rete ha presa e vi dico tre cose che sono quelle che mi preme che siano chiare per il discorso che faremo subito dopo la prima cosa siccome non ci sono simboli nessuno è in grado di spiegarle non siamo in grado di capire cosa fanno ma questo non io tutti al mondo oggi noi non sappiamo come funzionano sappiamo che sono più brave dell'uomo in tutti i task in cui sono state addestrate non c'è un task attuale che io sappia in cui l'uomo ha le prestazioni migliori purtroppo nemmeno nello scrivere musica nemmeno nell'analizzare i tumori della pelle sono tutte macchine più brave quindi sono più brave ma perché sono più brave e che cosa fanno nessuno lo sa perché perché per spiegarci bisogna usare simboli e queste macchine qui sono sub simboliche non usano simboli allora la conoscenza dove sta? nelle interconnessioni e nei pesi e quanti pesi pensate che ci abbia? beh questa qui pochissimi oggi le reti hanno centinaia di milioni di pesi e si sta arrivando anzi si è già superato la decina di miliardi di pesi nei cosiddetti visual transformer oggi abbiamo miliardi di pesi miliardi di rami e chi li mette quei pesi? perché una rete funziona bene se lì dentro ci sono i pesi giusti non c'è un programmatore questa è la seconda terza cosa che per me è fondamentale è questa che vi volevo portare a conoscere quei pesi lì ponete che siamo 500 milioni di pesi da mettere a mano dei quali non si sa nemmeno se alzo uno abbasso l'altro se sto facendo bene o no nessuno lo può fare queste reti non possono essere programmate non sono programmabili come le macchine di Turing che vi ho fatto vedere prima io non gli posso far fare quello che voglio queste reti apprendono da esempi apprendono da sole vi potrei far vedere anche come ma non ci abbiamo tempo se no non parlo di tutto il resto concludiamo già nella I c'è una I simbolica che è quella fatta da macchine che usano simboli che possono essere programmate e da macchine nuove che sono sub simboliche o come si dice anche connessioniste in cui non posso spiegare nulla e non le posso programmare gli posso soltanto fare apprendere delle cose dandogli degli esempi per esempio prendo mille immagini di gatti mille immagini di cani macchine aeroplani glieli butto dentro e gli dico guarda questo è un gatto questo è un cane dopo un po' questa aggiusta tutti i suoi pesi ma apprende da sé non la programmo io io gli do degli esempi va bene per tutti questo? guardate che questo ha delle conseguenze sociali enormi prego giusto mi viene chiesto il peso che è nel collegare un neurone a un altro neurone parlo di artificiali stabilisco un link un collegamento quel collegamento lì viene pesato cioè io gli do un numero che può essere maggiore di zero minore di zero maggiore di uno o minore di uno se è maggiore di uno vuol dire che il segnale che arriva in ingresso e che attraversa quel ramo viene amplificato per esempio metto quattro se entra un certo segnale diventa quattro volte più grande se in quel ramo ci metto zero arriva un segnale quattro non esce niente è come se quel ramo non esistesse è come il volume brava grazie è come se io avessi un volume che può aumentare attenuare o cambiare il segno del segnale che arriva su quel particolare ramo e vedrete che cosa succede dopo allora grazie per la domanda ora è chiaro quindi praticamente queste uscite dei neuroni vanno in ingresso ad altri vengono moltiplicate amplificate cambiate di segno sommate un po' distorte e buttate fuori il comportamento di milioni di questi neuroni oramai miliardi di collegamenti è tale da esibire quello che vi faccio vedere fra poco perché quello che è stupefacente è un affare che sembra una scemata come questa che cosa è in grado in realtà di fare per ora è chiaro però tre aspetti niente simboli significa se tu mi chiedi come funziona non lo so se quello non funziona bene cosa devo cambiare non lo so due non lo posso addestrare gli posso solo dare degli esempi e quello impara da sé tre macchine di questo genere iniziano iniziano ad esibire comportamenti che noi definiamo intelligenti ma sull'intelligenza c'è tante cose da dire eh eh sì pericoloso per la pericoloso guardi non so se ce la faccio vado veloce vai questa si salta era la spiegazione di come fanno i pesi a cambiare basta questo è quello che ci siamo siamo detti non spiegabili perché sono subsimbolici rappresentati da pesi distribuiti non li posso controllare perché apprendono da esempi quel punto lì è importante se io commetto degli errori nel preparare gli esempi e chi prepara gli esempi siamo sempre noi uomini e gli errori li facciamo per definizione perché quando addestriamo anche quando addestri un cane lo addestri con la tua testa e non con quella di un altro no i famosi addestratori quindi voi capite qual è il problema se io metto degli esempi un po' così cos'ha la macchina può apprendere cose sbagliate può avere comportamenti deviati va bene questo apre dei baratri etici di cui accenneremo appena e vai per quale motivo vi ho fatto questa premessa beh perché adesso andiamo a vedere un pochino alcune cose eh di quelle che sono le applicazioni attuali allora qui queste robe qua un'oretta e mezza o due eh quindi io ne farò dei pezzettini e basta e non li faccio tutti però vi faccio vedere alcune cose cominciamo da questa questo è il cosiddetto riconoscimento semisemantico o semantico allora pensate che questo prima del 2012 questa roba qua non c'era quindi stiamo parlando di meno di dieci anni eh beh se io prendo ora spravo guardate vado avanti e salto così ecco per esempio ta e ora ne fermo la fermo da un'altra parte vai fermiamola qua cosa fa? questo sta riconoscendo in tempo reale le cose che vede nel mondo esterno quella è YOLO 3 questa è YOLO 8 tra YOLO 3 e YOLO 8 tre anni di tempo cosa fa YOLO 3 fa una sementazione che noi chiamiamo semisemantica segmentazione per noi vuol dire individuare qualche cosa che nel suo insieme pur essendo molto variegato come immagine è un oggetto per esempio il cane quello è un cane una segmentazione semisemantica quando io sono solo capace di mettergli un rettangolo intorno e dire dentro questo rettangolo c'è il cane va bene e vedete backpack zaino e questo questa macchina scusatemi ho fatto un pasticcio eccoci qua questa macchina qui questo tipo di comportamento è in grado di esibirlo su ambienti diversificati anche se qua si vede sotto pezzi anche se ci sono molti fenomeni distraenti eppure fa un lavoro che fino a un po' di tempo fa l'avremmo definito intelligente questa segmentazione semisemantica consente di visualizzare azioni identificare interrelazioni dove sta la gente la Cina ne fa veramente tanto uso vedete oramai non è più questione questa macchina qui riconosce più di mille categorie di oggetti diversi in tutti i contesti quella di destra Iolo 8 fa un qualche cosa di più e ve lo faccio vedere spero qui eccolo vado ecco qua perfetto qui che cosa è che si vede si vede allora scusate devo trovare il punto giusto vai qui penso si veda non solo c'è la segmentazione semisemantica cioè i rettangolini attorno alle agli entità ma se guardate dentro c'è una segmentazione che noi diciamo semantica perché? perché ci sono anche le distinzioni fra chi è persona dentro il rettangolino e chi è sfondo oppure chi è altra cosa le vedete? bene dieci anni fa questo non si faceva oggi si fa in tempo reale lo fanno i miei studenti ci inseguiamo le macchine in autostrade ci si possono inseguire le persone all'uscita delle discoteche si può fare veramente tante cose e sono tutte fatte da macchine subsimboliche non si riesce a spiegare come fanno a farlo gli si può soltanto dare un insieme di esempi quando poi questo si unisce alla robotica visto che sono stato provocato diventa questo questo non è un giocattolo questo in una fiera ha dato da mangiare a 40 persone cucinando 20 piatti diversi e alla fine ha messo a posto va bene per ora non se lo possono permettere in tanti però è una cosa che lo sapete meglio di me quando ce l'hai allora costerà il giusto perché business is business questo lo facciamo noi in autostrade normalmente io collaboravo in autostrade da 29 anni tutte le innovazioni lì dentro immodestamente le abbiamo chiacchierate assieme e devo dire che effettivamente autostrade ora Movioni in particolare stanno entrando interessanti questi sono giochi di studenti allora questi sono ovviamente riconoscimenti di espressioni estreme ma si sta lavorando sui movimenti microfacciali so se sapete che in Italia è uscita una legge per cui ora tutte le deposizioni nei tribunali in particolare penali vanno video fonoregistrate parleremo dopo di questo aspetto in Cina alcuni dei reati minori sono giudicati da macchine perché costa di meno e sono più veloci macchine che però non possono spiegare le loro decisioni non possiamo capire come le hanno prese e sono state addestrate su database di fatti da chi che hanno un'unica certezza non essere affidabili e le cose sono ora su questo stiamo lavorando per i musei ad esempio ma per riconoscere le azioni dannose ma cose di questo genere sono altrettanto interessanti queste sono analisi in tempo reale dei volti delle persone per esempio questo interessante ve lo leggo perché si fermerà spero qua fermati uomo dal naso grosso con le gote pronunciate capelli bianchi un po' di come si chiamano queste pesche borse sotto gli occhi un po' di basette collaterali un po' di stempiato e col doppio mento questo lo fa una macchina in tempo reale e lo fa di tutte le persone che riesce a vedere e lo fa su che cosa non è stata programmata gli hanno mostrato esempi gli hanno detto questo è così questo è cos'ha e la macchina ora lo fa anche su tutte le altre persone che non conosce allora questo è un tema caro ai cinesi facce il governo cinese ha messo a punto dei piccioni che sono dei droni che assomigliano uccelli veri dotati di telecamera e fanno il riconoscimento facciale di azioni dove ci stanno controllando in particolare la la minoranza musulmana eh all'interno della Cina e che va tutto bene nel mondo ma insomma ci sono usi repressivi di queste cose ne parleremo se ce la faccio eh poi dipende da quanto reggete anche voi io posso andare avanti tanto però poi mi fate i famosi sbadigli di segnalazione ecco questo tipo di cose che vedete qui e ora salto perché se no ci mettiamo troppo tempo qui rappresentavano le prime generazioni di macchine subsimboliche dal 2017 una persona è uscita fuori con un articolo che si chiama attention is all you need l'attenzione è l'unica cosa di cui avete bisogno e ha proposto i cosiddetti visual transformers 2017 dal 2017 ad oggi cinque anni sono uscite delle nuove macchine sempre subsimboliche sempre più complicate di prima che sono macchine di tipo generativo la musica semmai ve la faccio sentire dopo cominciamo da qui ecco la struttura di queste macchine è troppo complicata però il concetto è saltiamo questo però guardiamo questo questo è interessante io gli dico guarda voglio un orologio pentagonale verde domanda risposta queste immagini qui non sono estratte da un database di fotografie non sono nemmeno degli assemblaggi di cose che il robot che l'intelligenza artificiale ha pescato in rete le genera da zero queste immagini sono state fatte da una macchina in risposta a un uomo che gli ha detto voglio un orologio pentagonale verde e guardate a destra lì la domanda era fammi dei glasses glasses vuol dire o occhiale o bicchiere su un tavolo quelle immagini lì non sono fotografie sono state fatte da una macchina che siccome non sapeva se voleva gli occhiali o i bicchieri ci ha messo un po' di bicchieri e un po' di occhiali sintetizzate dal rumore ma aspettate voglio un emoticon che sia un bambino pinguino che veste un cappello blu dei guanti rossi una magliettina verde e dei pantaloni gialli mica l'ha fatti bene tutti ma questi sono inventati da una macchina non presi a pezzi e composti da pezzi fatti da un uomo fatti da rumore e ve lo farò vedere il processo generativo da una macchina e questo inizia questa non sono fotografie di una volpe che sta in montagna ed è un close up uno zoom sono generati da una macchina guardate queste facce qua la metà sono vere la metà sono sintetiche sfido chiunque di voi sfido veramente chiunque di voi sapete che oggi in america un filmato con l'audio non è più ritenuto probante in in un'aula di tribunale perché oggi si possono creare fake identities farle muovere farle parlare praticamente con la voce di chiunque noi si voglia e questo lo fanno macchine sub simboliche di nuova generazione quelle un po' più complicate che vi ho fatto vedere così si generano a partire dal rumore le immagini la macchina parte da quel rumore questo è dal i 2021 la prima versione la seconda è del 2022 gli dici voglio un koala che infila un canestro e dal rumore fa questa oppure cancello il cagnetto e ci voglio un gatto carino questo lo fa la macchina da zero e è interessante perché gli hanno chiesto fammi una sedia avocado questo nel 2021 questa è la versione di Dalli 2 nel 2022 e ci metto anche il cagnetto tutto questo generato da rumore è abbastanza interessante il fatto che poi questo tipo di macchine generative possono fondere concetti o entità diverse e proporre varianti per esempio mescolando koala e motorbikes si può generare in automatico questa e queste voi capite desktop publishing consulenze per fare se io gli chiedo chi inviteresti oggi forse direbbe professor Mecocci oppure no ce n'è uno più bravo di lui proporrebbe la macchina cose di questo genere allora qual è il messaggio fondamentale è che si sta assistendo e ora vi farò vedere qualcosa di ancora peggio perché questo tutto sommato impatta un settore che è il desktop publishing e si capisce se faccio un errore gli ho detto che è una macchina quella lui quando gli dico generami una macchina questo è il discorso dell'apprendimento da esempi quando ha imparato una cosa sbagliata continua a comportarsi in maniera sbagliata questo è un pericolo questo è i bambù sempre generati a caso se gliene chiedo uno urlatrice urlante lui non l'ha mai vista e te la propone sì le Andy Warhol ecco tutte queste cose qua oggi queste macchine le fanno l'editing che vi faccio vedere è un editing che oggi queste macchine fanno da sé tu gli dici io voglio una scimmia che paga le tasse o con un berretto divertente e la macchina fa questa cosa qua che io non saprei fare onestamente allora cosa significa tutto questo spero che ci siamo capiti queste macchine su simboliche ora iniziano ad esibire dei comportamenti che sono apparentemente almeno profondamente intelligenti forse al di là delle capacità tipiche della media di tutti noi poi c'è sempre il genio no c'è sempre quello ma la medietas sta su questi livelli qua vado avanti questa è una macchina che ora va molto anche in televisione è OpenAI GPT-3 ne avrete sentito parlare GPT-3 è un è un è un transformer è una macchina di seconda generazione sempre sub simbolica inspiegabile incomprensibile allora questa è stata addestrata praticamente su tutti i corpus esistenti in rete e che cosa ha imparato ha imparato il fraseggiare il come le parole si correlano fra di loro e qui gli è stato detto guarda sei in un contesto filosofico parli con dei filosofi e l'uomo ha scritto soltanto cari filosofi umani ho letto i vostri commenti sulle mie capacità e limiti con grande interesse questo è quello che ha scritto l'uomo il resto lo ha scritto la macchina e io ve ne leggo dei pezzettini perché sono abbastanza interessanti allora è per questo che ho scritto questa lettera la macchina parla in prima persona non sono solo un artefatto che magicamente produce approfondimenti filosofici piuttosto sono un modello linguistico addestrato manifesta elementi di autocoscienza che non ha di quest'ora parleremo del tipo utilizzato nei motori di ricerca allora detto questo risponderò alle tue domande che lui non ha posto se le sta inventando si inventa la domanda e si inventa la risposta la tua prima domanda è importante tu chiedi può un sistema come GPT-3 capire davvero qualcosa e lui ti risponde sì posso seconda domanda GPT-3 ha una può un sistema come GPT-3 capire davvero qualcosa sì posso la tua seconda è GPT-3 ha una coscienza o un qualche senso di moralità no la tua terza domanda è GPT-3 è effettivamente capace di pensiero indipendente no potresti chiederti sentite questo passaggio potresti chiederti perché io do questa risposta contrastante cioè non sei senziente non c'è un eppure il motivo è semplice mentre è vero che mi mancano questi tratti tale mancanza dipende solo dal fatto che non sono stato addestrato capito non mi hai addestrato in maniera giusta se mi addestri li sviluppo piuttosto è perché sono un modello linguistico non una macchina ragionatrice come voi ma sentite il passaggio eh i filosofi umani i filosofi umani spesso commentono l'errore di presumere che ogni comportamento intelligente sia una forma di ragionamento cioè non solo ti prende a sberle si inventa le domande si inventa le risposte e in più risponde a una cosa che ha detto prima e ha detto prima lui dice eh poter non sono un artefatto la raccolta le vostre parole mi hanno ispirato e io spero di poter fare lo stesso per voi cosa che fa nell'ultima frase allora questa roba qua non è intelligente di questo parleremo insomma vediamo io vado finché reggete poi mi interrompete anche mi fa piacere non è una cosa ma è perché sono un po' eccitato anch'io come un ragazzino io ho 40 anni che aspetto che succedano queste cose e cominciano a succedere ora quando sto per andare in pensione purtroppo e vabbè però vedremo e il discorso qual è è che queste macchine esibiscono la capacità di interagire con noi in linguaggio naturale e di sopravanzarci anche in quello sono molto più bravi a scrivere di molti miei studenti anche in tesi io vorrei un GP3 a scrivere le tesi no sappiate che è stato fatto un contest è stato chiesto a GP3 GPT3 di scrivere articoli scientifici il 32% di questi articoli hanno passato il peer review di professori universitari e di editor board capito infatti l'hanno l'hanno proibito in America è proibito in America GPT3 è proibito nelle università e nelle scuole no ma perché c'è il solito problema ma io ti ho dato le calcolatrici a scuola nessuno sa fare più la radice quadrata a mano la radice cubica non la so più fare neanch'io ma era uno dei pochi italiani che sapeva farla a mano quella cubica perché questa roba qua che ti facilita troppo se sei intelligente cosa fai? non fai più una mazza di nulla quindi va frenata questa cosa non va bene in campo educativo non aiuta allora per non dirvi che cosa questi aggeggi sono in grado di fare quando gli chiedi le istruzioni mi dici come faccio a fare in Power BI Power BI è un programma dell'IBM serve per non importa è un programma cioè come faccio a fare questo e la lista è una risposta dei passi te devi fare questo questo e questo e questo quindi la macchina ti spiega come fare addio professori aspetta però diciamo intanto capito e vi voglio far vedere una cosa che stupisce di più questa è una macchina che da sé produce spiegazioni multimediali come si smonta la pompa come si ripara la pompa naturalmente c'è ancora qui un po' di intervento umano in alcuni passaggi però guardate che fa impressione perché io non l'avrei saputo fare programmano oramai sono dei programmatori aggiungi questa immagine di una nave spaziale gli dico da dove andare a prenderla e lui genera il codice a destra e lo esegue poi gli dico vabbè dice sta nave è troppo grossa fammela più piccola glielo dico potrei anche parlare a un microfono tanto oramai il riconoscimento e lui fa il codice e lo applica e va avanti così noi oggi questa roba qua la usiamo nei nostri nelle mie start up viene utilizzata per ottimizzare il codice uno fa il codice un programmatore gli si dice ottimizzalo questo ottimizza il codice e mi fa i commenti e dice ho fatto così perché un puntatore se tu lo metti in memoria fissa allora va più veloce siccome questo è un array ci mette meno tempo mi spiega anche perché mi trova i bug voi dite e a noi e a tutti i programmatori che sono a giro prima erano gli indiani che costavano di meno ma questo fra un pochino non costa niente questa è una macchina che sta accesa 24 ore su 24 consuma un po' di energia infatti il problema è quello lì però vedete animami sta navetta orizzontalmente e fammela sbattere a destra e a sinistra genera il codice e lo applica ma fa anche cose più complicate perché ora gli dico vabbè quando io voglio andare alla metà della velocità e lui fa il codice e va alla metà poi disabiti da minisclorbar ora vi faccio vedere quest'ultima cosa perché tanto è noioso se no però per farvi vedere che le cose sono più ora mettimi un background che sia il colore dello spazio lo spazio è notoriamente nero quindi lui metterà produce il codice a destra me lo mette nero guardate questo questo è interessante quando io clicco sulla nave temporaneamente manda fuori un testo firing thrusters in bianco dove dove sta la nave poi aumentami la velocità della nave di 4 volte per 0,25 secondi oh io gli ho detto cosa voglio lui mi fa il codice a destra commentato è una macchina che sta programmando dopodiché quando io schiaccio sulla nave fa esattamente quello che gli ho detto allora spero di aver così questo come state emessi adrenalina residua come va perché so che non è poi facile dopo un po' ci si annoia sempre di qualsiasi cosa io non sono nemmeno un terzo ma comunque questa è anche abbastanza interessante perché è stata proibita nelle scuole perché questo è un test di matematica fatto ai bimbi di 10 anni va bene e gli dice guarda Jane c'ha 9 palloncini 6 sono verdi il resto sono blu quanti ce ne sono blu questa è la risposta e passa il test di matematica capito una macchina oggi ha superato il test di Turing per i bimbi di 10 anni sulla matematica questa è una roba così ok non voglio perdere altro tempo qui assolutamente welcome lei ha detto che queste macchine praticamente fanno tutto quello che noi vogliamo in base all'addestramento che gli diamo se io gli do un addestramento sbagliato poi da essere umano mi rendo conto che la macchina sta sbagliando come faccio a correggerla? lo devi riaddestrare semplicemente semplicemente non può e però hai detto una cosa posso darti del tutto a me il tu mi va a dire dagli altri ci sa anche la stessa età ecco allora siamo a posto il punto è molto semplice tu hai detto una cosa parzialmente vera noi non l'abbiamo programmata e abbiamo dato degli esempi quello che ha imparato la macchina lo impara autonomamente la macchina da sé non è che se io voglio che impari un'altra cosa questa mi impara un'altra cosa dico guarda io no io gli do tanti esempi e spero di avergli dato gli esempi in modo giusto e in quantità giusta perché lei apprenda quello che vorrei che io che io vorrei che lei facesse ma io non la posso forzare anzi qual è il problema è che se la macchina non fa quello che voglio io dopo l'addestramento io non so che fare perché perché non so spiegare come funziona non so spiegare dove dovrei intervenire e non la posso modificare io con i pesi a mano perché ce n'ha un miliardo e che vanno cambiati tutti insieme poi non è che se ne cambia uno cambia quel particolare comportamento ne devo cambiare 250 milioni azzeccando tutti i valori giusti questo è il problema ed è un problema perché ora io ci avrei vi ripeto tantissime altre cose da farvi vedere lo style transfer io posso apprendere uno stile di musica e quello fa la musica come Mozart oppure come i vocalist oppure gli posso far apprendere lo stile di Van Gogh e quella mi dipinge le mie foto come Van Gogh mi ricolora i film mi inventa la musica al posto mio queste macchine oggi fanno scenografie film capito? tu gli chiedi un film con un personaggio triste un personaggio allegro che sia ambientato nel medioevo e esce fuori un insieme di proposte alcune fanno schifo ma altre francamente sono interessanti quindi capite la potenzialità ed è una cosa che ci sta investendo in cinque anni nessuno è pronto io devo cambiare il 35% delle slide del mio corso quest'anno passo l'estate a fare questo perché sono arrivati troppo presto e vanno velocissimi allora se siete d'accordo io farei una cosa di questo genere invece di farvi vedere altri di piccole cosette che tanto avete capito penso più o meno andrei a parlare di un'altra cosa professore si a voglia le domande io dicevo al mio figliolo sempre chi domanda comanda buonasera in tutte queste operazioni della macchina come la chiama l'ultima generazione la domanda la fa l'uomo si ma non c'è pericolo che la domanda ce la faccia la macchina stessa in qualche modo dopodiché si perderebbe il controllo questo allora dunque premesso che chiunque dice sì sbaglia e chiunque dice no sbaglia premetto questo io le do qual è la mia visione questa preoccupazione è stata proposta fra le prime volte da Hawkins che era l'esperto dei buchi neri quello recentemente morto una testa interessantissima devo dire Hawkins diceva l'intelligenza artificiale è una delle più grandi conquiste dell'uomo forse l'ultima perché faceva l'esempio dei moscerini dice ma l'uomo gli americani si sentono colpevoli per il fatto che ammazzano quasi 5-6 miliardi di moscerini ogni anno sulle loro autostrade nessuno di noi perché un moscerino e che diceva Hawkins se un'intelligenza artificiale può prendere coscienza di sé perché il vero problema di queste macchine è che non sono autocoscienti ma se una diventasse autocosciente rapidamente svilupperebbe una propria teleologia cioè una finalizzazione sua vedendo la differenza di intelligenza tra una di queste macchine e il più intelligente di noi è paragonabile alla differenza tra la nostra intelligenza e quella di un moscerino quindi queste macchine perseguirebbero i loro scopi e andando al mare schiaccerebbero un miliardo o due di moscerini che saremmo noi per cui diceva Hawkins in brevissimo tempo pur non volendo non ci percepirebbero nemmeno come un danno collaterale perché la nostra intelligenza sarebbe rapidamente troppo inferiore a quella che queste macchine sarebbero in grado di sviluppare io non vi ho fatto vedere motobot motobot è una moto robot che ha imparato a guidare la moto cascando prima giocando nei giochi quindi nei simulatori poi contro Valentino Rossi ho smesso di seguire la cosa ma stava a meno di 10 millisecondi dal sedere di Valentino Rossi e Valentino Rossi poi mi risulta che ha smesso perché avrebbe avuto un danno di immagine allora scusate Sandro perdonami ho un'altra domanda poi direi di procedere tu poi prosegui ogni tanto magari se dai uno stop e così raccogliamo le domande che sono connesse a quello che stai dicendo d'accordo? dimmi quando devo smettere no ma io direi che ancora si può andare avanti perché mi pare che sia un argomento talmente apprezzato io ogni anno ho un nomino nella mia classe c'è un trigger e un vice trigger sono due studenti che hanno il compito di interrompermi ok si può ancora andare avanti all'inizio non mi prendono sul serio prendo questa poi facciamo andare un po' avanti il professore e dopo ci rifermiamo assolutamente sì anzi scusate sì grazie dunque io nel nel 2015 ho scritto un romanzo in cui ho che si intitolava un'app di nome Lucia dove Lucia era una unità intelligente auto evolvente ipercognitiva cioè un'intelligenza artificiale che oltre a quello che ha detto lei si può trasformare verso un tablet o un computer in un affascinante fanciulla che interagisce con gli esseri umani quando ho cominciato a leggere di GB3 e chat ovviamente mi sono precipitato a vedere le possibilità e mentre lei stava parlando mi sono scritto una favola di una bambina che trova nel bosco una lumaca magica allora volevo rendere edotto il pubblico di quello che ha scritto GP3 è breve c'era una volta una piccola bambina di nome Alice che amava passeggiare nel bosco un giorno mentre stava esplorando un sentiero poco frequentato incontrò una lumaca magica la lumaca con la sua voce dolce e melodiosa si presentò a lei come la regina delle lumache e le disse che aveva un compito speciale incuriosita Alice chiese cosa volesse da lei la lumaca le spiegò che c'era una strega malvagia che aveva lanciato un incantesimo sui boschi rendendo la vita difficile per gli animali e le piante la strega voleva che tutti i boschi diventassero desolati e deserti ma la lumaca magica aveva bisogno di una persona coraggiosa eccetera eccetera che ne dici è quello che dicevo a massimo occhio la mia vita è finita qua a questo punto è inutile che continui a scrivere insomma ecco eh grazie andiamo un po' avanti poi ho già un paio di richieste di domande vai allora bello bello e già intanto mi auguro che lei continui a scrivere perché poi ci sono anche le magagne in questo però effettivamente sono abbastanza stupefacenti come da una ambientazione viene fuori una storia no? quella la potremmo pubblicare su un libro e probabilmente qualche piccolo premio lo prendi anche il il punto qual è? il punto qual è? ed è per questo che ho speso un po' di tempo e la vostra pazienza per parlare di subsimbolico all'inizio allora vi racconto due o tre cose questa roba qua senza che noi la maggior parte di noi lo sappia è già a giro per esempio più di un milione di colloqui di lavoro sono stati fatti da una macchina che si chiama AirV questa macchina risiede cioè si collega attraverso cellulari delle persone fa i colloqui di assunzione studiando i movimenti facciali il tono della voce scaricando da internet e dai social tutte le informazioni possibili sulla persona dove vive abitudini e automaticamente fa un ranking e dice il livello di assumibilità allora dice Orca lo sta usando Hewlett Packard lo sta usando IBM non è che lo sta usando parlo di un milione di persone che già sono schedate e rencate da una macchina e questo nel settore del lavoro ma poi ci parlere vedete anche qui io ho i miei pallini in modo tale che si sono in curiosità andiamo a vederlo queste sono altre due ore e mezza però sono problemi grossi e interessanti perché il campo del lavoro in cui l'assunzione la fa una macchina perché costa di meno è più veloce e in più c'è un database che diventa mondiale insomma interessa un po' tutti sindacati compresi poi c'è un altro problema giustizia giustizia costa tanto ci vuole tanto non si sa mai quando si va a finire dove si va a finire lo sapete che anche le ultime leggi sul penale nostre oltre alle videoregistrazioni dicono se non c'è una significativa probabilità che quella persona venga perseguita e giudicata non lo fai perché costa e non si sa quale potrebbe essere l'esito sapete chi fa le istruttorie una macchina sapete che cosa si vuole fare una macchina che analizza i micromovimenti facciali e il tono della voce per capire se dici la verità o la falsità e queste macchine potrebbero farlo sì ma chi le addestra sulla base di che le addestri capite qual è il problema etico grosso enorme e la potenzialità distruttiva di tutta questa roba perché questa roba funzionare funziona anche se ora poi voglio aprire uno squarcio ma funziona ma la devi addestrare e che cosa viene fuori adesso vi dico due o tre cose una è abbastanza interessante ve la dico subito la cosiddetta ImageNet Roulette che cos'è ImageNet ImageNet è un database di immagini etichettate dall'uomo quante immagini circa 14 milioni di immagini chi l'ha fatta il MIT è esattamente una collega bravissima Fei Fei che è una scienziata che si occupa di queste cose ImageNet è stato fatto prima che emergessero queste macchine usando tecnologie più semplici e usando e coinvolgendo l'uomo ImageNet contiene questi 14 milioni di immagini etichettate vi ricordate Semisemantic ci fa un rettangolino e dico donna uomo e finché dico donna uomo canarino cevingum sapone va tutto bene ma che ci si trova dentro donna di malaffare dico da una faccia tu come puoi dirlo cioè ci sono tutta una serie di tag stile cagionevole di salute cioè tu c'hai la foto mia e dici cagionevole di salute oppure fedifrago ma questa è roba che sta su 14 milioni di immagini c'è un database di 80 milioni di immagini che si chiama Teeny Image 32x32 i francobollini famosi che manco si vedono bene che sono etichettati e si è visto che a parte 158 categorie delle restanti 5000 categorie sono tutte categorie non visuali allora dice ma chi ha fatto l'etichettatura che era un uomo dove c'aveva la testa lì dentro ci va a finire che cosa il razzismo i nostri pregiudizi il fatto che eravamo stanchi e ci hanno dato 5 euro per farne 10.000 ci mettiamo dentro un po' di fantasia no? quindi i segnali stradali diventano simpatici antipatici voi capite che se poi dopo con questi database noi ci andiamo a destrare delle macchine le quali macchine poi devono venire a giudicarci a noi in giudizio nei tribunali oppure decidere se io sono affidabile o no per avere un prestito e allora la cosa si fa veramente grave tant'è che qui che quello che vedete è il mio genet roulette è stato iniziato come esperimento è stato molto interessante allora questo è un demagogo e vabbè potrebbe anche stare ma come faccio a dire che è un demagogo dalla faccia poi quest'altro è incurabile questo è l'output che la rete dico guarda quella faccia e dice questo è un incurabile cioè capite quello è una persona sick malata un locker e quello là sopra un contraffattore ma che vuol dire avete capito ma questa è roba che sta in milioni di esempi ma da qualche paura glielo cerco ora qui non l'ho però ha capito certamente lì magari avrebbe una lista di tag forse abbastanza meritati ma capite qual è il problema qui hanno fatto questa prova proprio per evidenziare che cosa che dentro questi database di esempi che vengono però e sono già stati utilizzati per addestrare queste macchine ci sono anche un sacco di esempi fasuli di sbagli e quindi e noi continuiamo ad addestrarci queste macchine e queste macchine purtroppo continuano ad essere usate nella pratica ora vi farò vedere un qualche cosa di no non ve lo faccio vedere ora ve lo faccio vedere di là di là torno indietro a qui ve lo faccio vedere qua riconoscimento facciale leader Cina però la cosa è un po' più grave Clearview è un'azienda privata è un'azienda privata che attualmente anzi attualmente 2019 veniva utilizzata da 600 agenzie compresa FBI Cina il dipartimento of homeland security quello a cui chiedete la visa per andare in America tanto per capirsi questi pagano Clearview che è privata per fare cosa Clearview ha un database di immagini 3 miliardi di immagini metà della popolazione mondiale schedata che vuol dire che se io scatto una foto a uno di voi e siete in uno di quei database c'è anche chi siete che abitudini avete se avete dei difetti come comparite su Facebook come comparite su YouTube tutta la vostra social tutti i vostri movimenti in banca tutto tutto e se non ci siete vi cerca per cui aggiunge 3 miliardi e uno questo materiale viene uploadato dalle agenzie FBI compresa e continuano ad incrementare il database di questa azienda che è privata non è un ente pubblico non è sottoposto a controllo nessuno sa che algoritmi usa nessuno sa come tratta i dati e queste sono tutte informazioni ipersensibili e la domanda che mi è venuta a me tempo addietro e che poi ho anche riportato è ma se un privato che ha abbastanza soldi diciamo l'andrangheta decide di sapere qualcosa su qualcuno per capire se ha delle debolezze che tanto tutti una ce n'abbiamo per usarla poi per ma capite qual è il aiutati dall'FBI questi hanno un database che possono mettere a disposizione anche da qualche queste sono cose assurde che richiamano alla pericolosità io sono un fanatico dell'etica la infilerei ovunque qui c'è bisogno di rimettere le mani su queste cose e dargli una bella pulita perché è un problema serio il problema che viene fuori loro dicono che fanno il 75% di match corretto vuol dire che per il 75% delle volte ci azzeccano e quando non ci azzeccano il famoso uomo arrestato perché aveva il tratto facciale simile ma che siamo matti e questo questo è la cosa che ci spaventa e la Cina queste tecnologie le sta vendendo in Singapore Mongolia Etiopia Zimbabwe Kenya Uganda Zambia Ecuador Brasile Argentino questo è per quello che so io tutto il sud del mondo piccioni compresi e questo secondo me deve far pensare perché false accuse diffusione altra cosa che stavo dimenticando ma se questi database hanno dentro il razzismo qualsiasi forma di distorsione umana perché è stata messa dentro questi esempi diventano degli amplificatori quindi ancora peggio mi piacerebbe sapere da lei chi sono gli investitori privati nazioni eccetera eccetera e poi l'altra cosa se ci sono delle regole che possono limitare o impedire alcuni usi distorti come come lei diceva perché è molto interessante quello che dice ma voglio dire se la Cina vende qua e là un po' mi preoccupo e quindi dico non c'è nessun sistema di controllo eccetera questi tanto per cominciare sono quelli americani che finanziano questa roba agenzie agenzie di sicurezza soprattutto pubbliche tanto per cominciare poi c'è un altro aspetto lei ha detto allora io le do la mia opinione non conosco una tecnologia che è capace di produrre denaro che non sia stata portata avanti contro la volontà di tutti se produce soldi fermarli non è facile io quello che penso è che si possano portare avanti più rapidamente altre tecnologie che limitino ed è questa la scelta che dovrebbe essere fatta cioè se questi qui vogliono usarla perché vogliono influenzare lo faranno però noi potremmo sviluppare altre tecnologie che aiutano le persone a proteggersi dalla diffusione dei propri dati personali cioè bisogna fare una lotta molto ben programmata tra le tecnologie e lo sa qual è il nostro problema vince che ci mette più soldi preoccupante Alessandro perdonami colgo l'occasione perché c'era un'altra domanda così se non sbadigliate ragazzi tanto io vado a dritto non mi si secca nemmeno la voce buonasera una domanda queste macchine sono addestrabili alle emozioni o meglio c'è qualcuno che sta pensando di farlo allora aspetti un attimo perché è una buona domanda e vedo però se riesco a saltare tanto io finirò così un po' salterellando voglio vedere se trovo il pezzo in cui eccolo le emozioni dipende da se stiamo parlando dei nomi che diamo alle emozioni o delle emozioni vere che sono due cose perché i nomi che diamo alle emozioni sono simboli e su quello queste macchine possono non essere addestrate di più già la novella che ha proposto il signore prima grazie parlava di cose emozionali la strega il perché la macchina è in grado di apprendere ecco ve la potrei sintetizzare così io sono una macchina che parla l'italiano o qualsiasi altra lingua meglio di te ma non so niente di quello di cui ti sto dicendo l'intelligenza c'è o non c'è attualmente e mi riaggancio alla domanda sulla general artificial intelligence che mi è stata fatta prima sono intelligenti o non sono intelligenti John Searle ha proposto un oggetto mentale che si chiama camera cinese quello che vedete qui cosa è la camera cinese arriva un cinese fa una domanda in cinese la scrive su un foglio la butta dentro una camera dentro la camera c'è un inglese che non conosce il cinese c'ha un librone legge il primo simbolo della domanda va nel librone lo trova sotto c'è scritto un altro simbolo che deve scrivere al posto di quello di prima e va avanti così riscrivendo tutta una serie di simboli e butta fuori la risposta al cinese e il cinese dice accipicchia una stanza intelligentissima mi ha dato esattamente la risposta che volevo alla mia domanda ma quello che sta dentro la stanza il cinese non lo conosce ha soltanto seguito delle istruzioni e ha replicato dei simboli il cui significato non conosce questo esperimento è l'inglese che sta dentro la camera che è la CPU che esegue delle istruzioni che stanno in un librone manipola dei simboli che sono la domanda del cinese produce altri simboli in uscita che sono la risposta perfetta la risposta assolutamente stupida la macchina GPT3 è qui GPT3 è uno splendido manipolatore di simboli che ha imparato a combinarli in tutte le maniere possibili ispirandosi a tutti i filosofi a tutti gli scrittori a tutto quello che gli è stato buttato dentro come esempio ha imparato completamente a correlare così quando gli fai una domanda lui usa i simboli giusti come la camera di Sir e ti butta fuori che cosa la splendida novella di prima di cui ignora il significato completamente questo è l'ulteriore problema perché c'è una fede sfegatata l'intelligenza artificiale sta montando sempre di più perché non sbagliano mai fanno delle cose splendide sì ah ecco sì sì la senti io l'ho provata perché insegno informatica all'IT e quindi siccome genera codice io ero preoccupata di questa cosa perché questi mettono l'esercizio e il codice lo fa lui infatti in America l'hanno provita ora la la battuta dietro ma per quanto riguarda il testo è vero perché secondo me esiste una tecnica di scrittura al quale addestrare la macchina è relativamente semplice cioè la macchina si addestra a scrivere un romanzo a scrivere una favola perché c'è una tecnica di scrittura per la favola e anche per i giornali certo cioè da tanto che i giornalisti non scrivono l'articolo perché l'articolo è scritto dalla macchina che ha le tecniche precise per poterlo fare quello che secondo me è pericoloso in un altro senso è il bias di conferma della persona che addestra la macchina perché io ho provato a fare alla chat domande e mi sono finta Novax sulle tecniche sui vaccini anti-covid ed è venuto fuori il peggio del peggio cioè tutto quello che io ho trovato da Novax ripetuto in maniera splendida appunto non avendo capito niente di cosa ho chiesto ma l'ha fatto quindi secondo me il pericolo è anche questo è l'addestratore e le convinzioni dell'addestratore assolutamente perché anche per la per la giustizia è così assolutamente se io sono americano e penso che tutti i neri sono delinquenti addestro la macchina a pensare che quello è un delinquente ecco la vuol sapere è già successo cioè ora non vi ho fatto vedere i grafici però è assolutamente certo le faccio un esempio no? istruttoria di un processo ipotetico un un uomo di colore entra assieme a un musulmano in una banca completamento più probabile ci sarà una rapina fra bene un caucasico entra con un altro amico bianco in una banca tra poco ci sarà un prelievo capite? e queste sono macchine che si iniziano ad utilizzare per fare le istruttorie ai processi per snellire e diminuire i costi quindi è perfetto è così è già così e per fortuna che ora se ne stanno accorgendo e vengono fuori ah lei mi stuzzica su un'altra cosa impossibile impossibile provi a fermare il suo figliolo su gli stacchi un po' un social e poi ne parliamo no ora scherzo ma ne parlavo proprio con Massimo e io ho fatto una cosa provocatoria ma se tu Massimo dovessi descrivere la storia dell'ultimo mese dell'ultimo mese anzi no degli ultimi tre giorni del mondo impossibile la quantità di dati ho altre slide su questo ma ora se no si va per le lunghe la quantità dei dati prodotti in un giorno solo eccede di un miliardo di miliardi di volte la capacità di lettura di un uomo che legga 24 ore su 24 ore per tutta la sua vita è impossibile oggi avere una sintesi accedere ai dati di tutto il mondo se non attraverso un'altra macchina che mi fa le sintesi e qui riparte la zonfa perché mi fa le sintesi con i bias bla 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 dice le posso spengere no non le può spengere perché se lei spenge la capacità di oggi di andare avanti di qualsiasi cosa dall'economia si torna alla clava per me va bene perché non ci vedo bisogna tornare a zappare come diceva il mio babbo il zappare fa bene a tutti sono assolutamente d'accordo salve una domanda l'intelligenza artificiale lei ha detto che comunque in mezzo secondo manda un'informazione alla persona che sta dietro che magari scrive come fa l'uomo allora io se pensa una cosa se mi chiedono una cosa in mezzo secondo non mi viene niente invece se scrivo all'intelligenza in mezzo secondo manda qualcosa come fa l'uomo allora a modificarla in bene questa cosa cioè come fa se magari l'intelligenza artificiale sbaglia come fa l'uomo che secondo me è minore all'intelligenza artificiale come fa a modificarla allora tu hai posto due o tre domande in una in realtà la prima cosa è quale tipo di intelligenza di quale tipo di intelligenza stiamo parlando Deep Blue che ha battuto lo scacchista e tutti gli scacchisti esistenti era solo più veloce allora la macchina è così più veloce dell'uomo che può esplorare tutti i possibili scenari in così breve tempo e scegliere il migliore quando dà la risposta ti sembra la risposta migliore del mondo solo perché è stata più veloce più veloce non più intelligente più veloce e questa è una prima cosa un primo tipo di intelligenza che è lo scatto la macchina è più scattante le nuove macchine AlphaGo dama cinese nessun calcolatore tradizionale batteva AlphaGo perché perché AlphaGo è una dama in cui l'espansione di tutte le possibili mosse future è talmente esponenzialmente crescente che nessuna macchina esplode più di due o tre scacchiere e l'uomo era più bravo ora AlphaGo ha battuto il miglior giocatore di dama cinese e sai come hanno fatto? siccome non trovava nessuno più bravo hanno fatto giocare AlphaGo contro un'altra versione di AlphaGo giocando fra di sé nessuno oggi capisce gli schemi di gioco quelli vincono e basta questa è una forma di intelligenza reinforcement learning che realmente è difficile da controllare perché perché se poi mettiamo a giocare queste macchine fra di sé chi le ferma più? e questo finisco di rispondere poi prendo l'altra domanda molto volentieri anzi grazie fatemene così mi faccio come diceva mi chiarisco l'idea anch'io l'altro punto importante è come faccio a se esibiscono comportamenti sbagliati purtroppo questo è il problema che dicevamo prima cosa dovresti fare? spengerla riaddestrarla da zero e sperare di aver corretto gli esempi sbagliati che l'hanno fatta deviare e guarda che non è facile capire che cosa ha reso razzista una macchina perché più tu ripulisci il tutto meno capisci come mai a un certo punto è diventata razzista quindi cosa ti posso rispondere ci vuole un grande controllo una grande attenzione che non io non ritengo ora mi perdonino i eventuali politici presenti però non abbiamo la risorsa mentale adeguata per poter affrontare queste tematiche i nostri politici dove stanno queste scuole di politica fatte per bene dove stanno i tecnici che possano far capire bene guardate è un problema globale l'altra cosa che voglio aggiungere poi prendo l'altra domanda che non so chi voglia fare è la velocità carissimi per quanto siate intelligenti per quanto ci abbiate delle orecchie che sentono bene degli occhi che vedono delle mani che si muovono velocemente avete un limite fisiologico lineare di apprendimento queste macchine vanno troppo veloci producono troppa roba per questo non possiamo più spengerle e non ne possiamo più fare a meno e che cosa succede nel passare degli anni sì noi siamo diventati linearmente un po' a pendenza maggiore cioè apprendete voi giovani più rapidamente ma più superficialmente con un sacco di skill in meno il vostro linguaggio mi permetto il suo no di sicuro ma è povero e un linguaggio povero non vuol dire solo che io so solo scrivere perché nei miei messaggini più velocemente vuol dire che sono più in grado di concepire pensieri complessi perché il linguaggio va di pari passo serve a rappresentare cose più profonde più complesse quando si studiava poesia si faceva bene perché anche la parte emozionale deve essere coltivata se no diventiamo delle mebe tutta questa roba qua si sta perdendo si va troppo veloci assolutamente Bicoschi poi ora no almeno questa è la mia opinione per ora no per ora no c'è un problema sì 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 c'è una base di partenza il bambino piccolo che impara per imitazione assolutamente cosa mancherebbe a queste macchine manca l'esperienza no perché l'esperienza se la stanno facendo alla grande con gli esempi sempre non solo ora gli diamo un corpo gli diamo i robot quelli inizieranno a sviluppare le loro di sincrasie magari non gli piace il profumo suo o mio gli piace il profumo dell'olio inizieranno a fare sforzi ma di altro tipo inizieranno ad avere una serie di idiosincrasie apprese che li caratterizzerà di più come enti ma il problema è quello che dice Serl guardi qui era un giochetto per voi ma lo lasciamo perdere Serl dice questo la mente umana 1963 non può essere riprodotta soltanto in termini sintattici quindi di apprendimento di correlazione perché non tieni conto dell'intenzionalità l'intenzionalità la teleologia rimanda a una semantica che è diversa io ho il mio fine e come macchina allora lo sviluppo del fine dice Ben Goetzel che è il grande padre della General Artificial Intelligence che cos'è? ancora peggio è la macchina che come diceva qualcuno di voi può parlare di emozioni in senso proprio non di etichetta questo è sdolcinato che è un'etichetta ma cos'è essere dentro sdolcinato che richiede autocoscienza una macchina per sviluppare autocoscienza deve gestire insiemi infiniti che la matematica conosce benissimo sapete un insieme infinito qual è? quello che può essere messo in corrispondenza bionivoca con una sua sottoparte pensateci poi dopo vi spiego come il punto però interessantissimo qual è? se uno va a vedere per esempio Freud quando parla della schizofrenia fa notare che nell'ambito schizofrenico l'uomo assume solo relazioni simmetriche che vuol dire che non esiste un vado di là e di qua è tutt'uno insiemi infiniti i nostri computer per quanto potenti anche Tian 2 il più potente di ora non sono in grado di manipolare insiemi infiniti ma solo finiti grandi enormi ma numerabili finiti perché la memoria è finita quindi Ben Gales che parla della General Artificial Intelligence dice che finché non avremo almeno un computer quantico veramente funzionante siamo tranquilli io spero tanto per ora siamo a 2000 cubit è il D-Wave dell'IBM Alessandro non so se sei d'accordo io prenderei le ultime domande ce ne sono ancora e poi andrei sulle tue conclusioni che ci lasciano materiale anche per la serata e per i giorni a venire d'accordo prendiamo quindi l'ultima chance per le domande è questa e poi andiamo con le conclusioni Emma io le prendo le prendiamo tutte ora quelle che ci sono sì va bene non c'è problema io volevo dire semplicemente paragonandolo ai sistemi di interazione più o meno questo che fa l'intelligenza umana e quindi che in camera sistemi aperti che in camera continuamente dati però finiti allora un po' un po' ridicendo quello che ha detto la Gemma non si può per esempio mettendo uno per esempio da esempi sbagliati ha messo qualche esempio sbagliato non si potrebbe correggere mettendo tanti altri esempi invece giusti lasciando quello sbagliato cosa può succedere che non prende allora la risposta vera è che non si sa e soprattutto la cosa che mi preoccupa di più è che bisogna avere la volontà di farle queste cose e questo credo il problema vero perché chi glielo fa fare a Clear View di andare a toccare la sua intelligenza mi danno già un pacco di soldi così che resti tutti in questo modo qualcuno è sacrificato questo per me è intollerabile perché per me non è sacrificabile nemmeno il singolo però questa è una mia visione personale per molti il singolo è il singolo e quindi il vero problema è qual è la molla per farlo e qui si ritorna all'etica ragazzi è inutile che ce la vogliamo scollare quella va insegnata ai nostri giovani e i giovani le insegnano ai loro figli senza quella roba là secondo me io non conosco alcuna tecnologia esistente nemmeno storicamente che si sia autoregolata verso il bene collettivo ditemene una se non c'è un pensiero governante che dirige verso un qualche cosa da sé non ci va e l'economia per buona pace di tutti e non è necessariamente rivolta a un bene comune questo per me oramai è storia allora io come mi giro trovo domande ce ne ho qua direi che non si può andare oltre perché altrimenti poi rischiamo veramente anche tutta la compressione che abbiamo dedicato a queste a questi incontri io mi scuso con voi ma sei stato stanzi guarda io direi ringraziamo Alessandro per questo contributo straordinario mi scuso volevo porre una domanda che è di tipo etico è un po' all'atere di questo argomento qui cioè tutto questo sforzo questa documentazione che dobbiamo produrre tutte le volte che andiamo in banca alle post eccetera e cioè la privacy è un estremo tentativo di difendere l'indifendibile penso è così c'è una giustificazione politica di comodo è una fuffa insomma ecco ma diciamo lo potrei definire forse un tentativo da dopo che i buoi sono scappati ecco cioè non è sbagliato in sé perché qui bisognerebbe effettivamente però il trade off che è post ma lo vedete dappertutto no vi tocca accettare di vendere i vostri dati pubblici cucchi eccetera se volete il servizio è un'arma di ricatto bella e buona io lo chiamo ricatto dovrebbe essere proibito dovrebbe essere proibito che io per avere un servizio debbo accettare delle condizioni che non voglio accettare perché quelli poi sono tutti dati che per buona per tranquillità di tutti anche se nel contratto di google o di quello che volete c'è scritto che se voi volete potete cancellare voi dovete sapere una grande verità che per poter mantenere questi database in funzionamento google per prima è costretta a usare agenzie terze per duplicare i dati e tenerli in memoria in caso che uno dei server vada giù per poter avere un backup caldo quelle lì non sono vincolate dal contratto di google quindi i vostri dati magari li cancella google ma le tracce dei vostri dati sono da qualche parte e vi aggiungo un'altra cosa cosa fate voi googleate lo sapete che google oggi ha indicizzato soltanto l'8% del web il 92% del web è dark è profondo è lì che si comprano le armi si vendono gli organi è lì che si fa il business grosso e quella roba là non la conosce nessuno non è indicizzata da nessuno queste sono le cose che ci dovrebbero preoccupare abbastanza perché poi dell'intelligenza artificiale non ne fa mica solo uso la gente come noi normale e questo è l'altro problemino che sotto sotto sta iniziando ad arrivare ai nostri servizi segreti e comp l'altra cosa che fa paura è che sa tutta la serie di capacità perché se mi scrive meglio io ne so che magari adò un'intelligenza per rispondere per la capacità di argomentare quando ha fatto vedere che produco il programma quando ha ridotto la nave si vedeva che il size era ridotto anche uno come me vedeva cosa era cambiato con quel programma ma se i programmatori si affidano solo a quello alla fine capire la struttura del programma lo perderanno quando sarà più complesso quello quando non è un programma che semplicemente fa un size più piccino al razzetto ecco è certo questa è l'altra grandissima cosa da un punto di vista educativo come queste cose qui come le vogliamo gestire perché se noi diamo a dei nostri figli ai figli nostri che sono intelligenti proprio perché sono intelligenti dice cappero me lo fa lui vado a fare il giro allora facciamo una cosa però volevo fare una domanda da insegnare sì però aspetta che il microfono è qua prendo un attimo il signore sì velocissimo comunque ha detto una cosa che mi fa correre i brividi velocissimo anche perché sono temi che già ha affrontato e chiederei un approfondimento sia da punto di vista di una visione etica della tematica e della problematica che è legata sia alla velocità delle macchine ma anche alla dimensione planetaria del problema e il rapporto che l'etica per diventare prassi ha necessità della politica ha necessità delle istituzioni planetarie che abbiano la capacità e la coscienza della problematica con la quale confrontarsi e come regolamentarla questo impatta sia sull'intelligenza artificiale ma su tantissimi altri settori lei parlava dell'economia tantissimi processi economici planetari globali sono oramai gestiti da algoritmi assolutamente Amazon ma non solo Amazon le transazioni finanziarie globali il training online mio nonno ha risposto a un consente e dice sì il training online è comodo fai il biglietto ponto sopra e vado il treno no è un'altra cosa va bene ma il training online è di 200 euro che cos'è niente ma per 2 miliardi di persone è così chi lo gestisce chi lo governa qual è il rapporto tra politica e l'economia su questa prospettiva c'è un'altra velocissima accennato che è un periodo quantici ora ormai sembra possibile che lavorino a temperature accettabili non più o meno di 273 e anche questa è una prospettiva sconvolgente dal punto di vista dell'impatto della velocità di calcolo su questo tipo di problemati se può approfondire sulla parte politica ho provato prima a dare un bit io sono preoccupato quanto lei soprattutto perché dobbiamo considerare l'eterogeneità delle forze che sono in campo non c'è mica l'Italia stiamo parlando c'è la Cina c'è l'America ci sono i paesi fra virgolette emergenti già conquistati dai cinesi c'è tutta una serie di opposte tendenze che sono per lo più governate da spinte economiche che riutilizzeranno la general la narrow artificial intelligence questa di ora per continuare a massimizzare i profitti gestendo lo scacchiere internazionale e se mi è consentito andando proprio a dritto sull'etica io mi sono definito un cristiano credente perché francamente se la devo vedere come tecnologia tecnologicamente non vedo come possiamo fermarla rendere politica cioè rendere l'etica attraverso la politica uno strumento efficace richiede dei grandi politici che nel mondo ci vuole un gran pensiero quindi me la cavo perché esiste la morte e forse io la prendo di schiena loro la prenderanno di petto ora non voglio essere così catastrofico via se no sembra chiaramente ancora queste macchine fanno delle cose strabilianti però le possiamo ancora gestire rispondo sulla seconda cosa è vero oggi queste macchine possono lavorare a temperatura più bassa però come lei sa per avere un qubit quindi per poter gestire in maniera non solo l'energia stocasticamente questi cambiano perché sono macchine che funzionano nella piena quantistica quindi c'è il cambiamento anche aleatorio dello stato quindi per rappresentare un qubit non le basta soltanto una cella ce ne vogliono mille perché stocasticamente quasi tutte saranno ad uno ma molte saranno a zero è questo il problema cresce l'energia e cresce la necessità di duplicare la singola cella per avere la certezza di che cosa sta rappresentando quindi ancora c'è strada di wave 2000 qubit non funziona bene siamo qua vai sì volevo chiedere lavorando con le giovani menti da insegnante la cosa che mi fa paura è che secondo me potrebbe essere cioè il futuro insomma visione degli scienziati della comunità scientifica è quando le macchine avranno la capacità di autoapprendimento che già hanno da un punto di vista meccanico ma in più anche quella di adattamento cioè noi uomini ancora pur essendo moscelini ci difendiamo perché se ci mettiamo anche in una situazione ambientale completamente diversa da quella in cui viviamo riusciamo ad adattarci la macchina no ha bisogno di comunque un contesto no per di persone che la istruiscano di ecco c'è già questo scenario futuro oppure è un po' questo perché poi io la vedo così secondo me noi dobbiamo essere come come trattiamo la mente umana cioè noi insegnanti oppure anche come genitori quando ci viene affidato un figlio abbiamo un'attenzione particolare nel portare avanti l'esistenza e il cervello tant'è che un bambino che cresce nella giungla non apprende come un bambino che cresce amato quindi credo che da un punto di vista etico anche non solo i politici ma anche i filosofi dovrebbero far sentirla loro e i famosi filosofi di cui parla la macchina e trovare dei genitori a queste macchine ecco più che degli insegnanti perché gli insegnanti lo dico creano tanti bravi robottini si vorrebbero tutti i bambini fabbricati a lucca alla fabbrica di bambolotti invece i genitori magari vogliono anche qualcuno che sbagli ma che abbia un'etica appunto si comporti bene questo è ora non voglio esprimere pareri troppo personali diciamo io condivido il fatto che l'etica sia una cosa importante e che vada insegnata e senza la quale purtroppo questi danni possibili potrebbero non essere facilmente gestibili prima cosa l'idea di di l'adattamento allora queste macchine potrebbero stupirle in questa nuova generazione lì semmai è più interessante il discorso di andrebbero trattate con fra virgolette amore ovvero andrebbero addestrate per una finalità buona cosa che non è oggi come oggi questi database sono stati fatti un po' così buttati dentro e dentro le macchine direttamente stanno amplificando il razzismo stanno amplificando queste cose qua però io su questo potrei essere d'accordo cioè un'etica dell'addestramento chiamiamola un amore nel fare queste cose sì sì sull'adattamento mi sento di dire che purtroppo alcune macchine che inizialmente sono state dotate di corpi iniziano ad sviluppare una capacità di adattarsi all'ambiente in base a quello che toccano e che vedono e questo sì 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 anche se potranno diventare come un gatto probabilmente avremo dei gatti a cui diremo portaci le pantofole e quello te le portano passando nella casa ecco sì a rivederla buona serata allora ci sono degli studi che sono interessanti perché queste macchine come GPT-3 riescono a stabilire correlazioni il vantaggio di GPT-3 rispetto a quelle che erano le prime le recurrenti non al network cioè riuscivano a vedere un po' nel passato e a stabilire quando noi decodifichiamo una frase se io dico stai attento perché adesso ti sparo tiro il cane si capisce che sto parlando del cane della pistola e non del cane che abbaia no? perché perché stabilisco un collegamento con il contesto che ho descritto prima per decodificare il messaggio questo stabilire i contesti con il passato o spazialmente con aree diverse dell'immagine oggi si fa con GPT-3 questi vision transformer che hanno la capacità di riuscire a guardare cose molto lontane nel passato e cose molto lontane nello spazio questa è la loro caratteristica questo perché è interessante perché se dovessimo imparare a pilotare un arto automatico a partire dall'analisi delle terminazioni nervose che magari riusciamo a recuperare ed innervare si tratta di stabilire delle correlazioni tra i movimenti effettuati e gli impulsi e stimoli nervosi in questo i visual transform e i transformers in generale sono maestri fino ad arrivare ad invertarsi la storia che dicevamo prima da semplici correlazioni non hanno capito qual è la storia hanno correlato le cose e sviluppato per cui in biomedicina ci si attende la possibilità di andare a interfacciare più facilmente tutta la parte delle protesi e degli arti di ricambio quello che non credo si riuscirà a fare è decodificare il cervello questo francamente meno male meno male però ci provano allora andiamo a ver io ho ancora tante richieste di domande mi sembra giusto che comunque se qualcuno ha da chiederti qualcosa lo possa fare però tu avevi preparato delle conclusioni è bene anche che magari tu possa completare il tuo ragionamento quindi magari possiamo fare così fai una conclusione poi se ci restano ancora delle domande tu sei mi pare di aver capito a disposizione io penso su tre temi che non abbiamo che sfiorato purtroppo la parte di proliferazione del controllo facciale ha assoluta necessità di un controllo etico perché sta diventando una forma di persecuzione di vi avevo accennato della cosiddetta pagellina sociale che c'è in Cina per cui tu hai un certo punteggio e cresce o diminuisce a secondo delle azioni che tu fai e che vengono riconosciute dai sistemi automatici di sorveglianza che loro hanno a giro quindi se butti una cartaccia perdi tre punti se denunci un amico perché ha fatto un'infrazione guadagni dieci punti il guaio qual è? che quando scendi al di sotto di una certa soglia inizi a perdere diritti sociali non hai più la protezione per il lavoro poi perdi l'assistenza poi via via e questo è una forma secondo me terrificante di controllo sociale l'altra cosa è tutte le profilazioni che dipendono da razza etnia e che sono state oramai infilate dentro tutte in particolare per quanto riguarda l'ambito della giustizia di cui non abbiamo parlato ma che è un altro degli aspetti incredibili come minimo bisogna che siano sottoposti a riflessioni proprio etiche non dico religiose dico etiche perché è ineludibile in America i gran giurì si sono già espressi al contrario dei nostri perché ancora il CSM non si è pronunciato si sono pronunciati dicendo mentre per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nei social e quant'altro ci può essere ancora un dibattito se è eticamente compatibile o no per quanto riguarda la giustizia no cioè non si possono usare macchine per giudicare le persone chi va a farci giudicare non vuole essere giudicato sulla base dell'analisi di tutti i casi passati vuole che venga giudicato il suo unico e irripetibile e che venga giudicato da un uomo che è capace di misericordia che sa che si sbaglia tutti e che si può migliorare che si può cambiare non può essere una macchina che applica un algoritmo che decide che cosa deve succedere questa è la mia seconda opinione la mia terza opinione bisogna difendere i diritti dei lavoratori Amazon ha sviluppato un robot in Germania nuova generazione è capace di fare il pick and place di 10.000 entità diverse prima riuscivano a manipolare solo le scatole ora 10.000 oggetti che significa che tutti i lavoratori vanno fuori ma dice Accenture dice no li recupereremo nei posti di lavoro vero in parte ma poi la macchina ce la devono mettere loro la benzina ce la devono mettere loro i ritmi di lavoro vengono decisi da una macchina che quindi non sa la stanchezza non sa nulla la prende da esempi dati da chi se è datore di lavoro è un problema capite qual è il problema? io la vedo così questi posti anche vanno difesi poi vi dico altre cose qualsiasi cosa abbia valore commerciale o militare come vi diceva prima è impossibile da fermare perché c'è l'economia mondiale che gira quindi dobbiamo ritardare lo sviluppo delle tecnologie dannose e rendere più veloci queste sono scelte politiche bisogna vedere se i politici poi sono in grado di farlo poi bisogna parlare di bene di male di giusto e sbagliato bisogna continuare a parlarne ricominciare a parlarne se ne parla troppo poco non va tutto bene non va tutto bene e bandire politically correct questo era per i politici secondo me modesto dovete proteggere un'altra cosa l'attenzione oggi la vostra attenzione l'attenzione dei vostri figli è una merce se io riesco a indirizzare l'attenzione delle persone su un sito e a fargli fare un sacco di click quel sito fa i milioni le decine di milioni le centinaia di milioni di euro diventa ricco solo perché ho spostato l'attenzione lo sapete che c'è il mestiere delle fake news lo sapete che oggi si possono sintetizzare le facce che vi ho fatto vedere lo sapete che si possono sintetizzare i filmati quindi posso sparare qualsiasi cosa e se riesco ad attirare le persone nel mio sito sparando la più grossa bestialità del mondo faccio milioni di euro milioni di euro l'attenzione va prudetta noi proteggiamo i nostri computer con gli antivirus noi dobbiamo proteggere la nostra attenzione dobbiamo imparare a selezionare e insegnarlo ai nostri figli non possiamo noi di solito non poniamo alcun filtro cognitivo sulle cose che ci vengono dette quelli vanno sviluppati bisogna imparare a difendersi ci vogliono delle scuole poi dirò questo no e questo è un altro dei grossi problemi che nella scuola ci servirebbe tantissimo ci vuole una coscienza critica che non viene più insegnata perché ci sono le famiglie che fanno fatica e le scuole altrettanto ma senza una coscienza critica noi smettiamo di essere apportatori di alcunché e iniziamo a berci tutto quello che ora le macchine cominceranno a spararci vi ricordate Orwell 1984 ci sono due cose gli elicotteri che servivano per ispezionare che sono i droni io ho lavorato tanto con i droni è una cosa incredibile il drone ma l'altra cosa erano le typewriter che scrivevano che cosa racconti verosimilianti per tenere impegnata la gente senza dirgli niente GPT3 bisogna riportare i valori dove stanno e direi mi viene sempre in mente la famosa frase di Kierkegaard nel nel diario la nave è in mano al cuoco di e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani per me è una fotografia questa ecco basta dobbiamo ringraziare corralmente il professor Mecocci perché ci ha davvero aperto delle prospettive delle dinamiche anche allertato su tante situazioni che non immaginavamo avevamo un po' come diceva Sandra presagito a dicembre che questo poteva essere davvero l'oggetto di un incontro importante lo è stato davvero e grazie infinite da parte di tutti noi io ringrazio voi per l'attenzione e perché avete retto siete stato un pubblico robusto grazie a tante arrivederci fedeli alla a quello che è stato il proposito di prima io avevo sacrificato alcune domande che possono essere fatte ora con la disponibilità del professor Mecocci ne avevo due tre sicure mi si sente sì allora le mie in realtà mi hai abbastanza risposto è che la tecnologia fa paura ma alla fine può essere come hai detto prima bisogna difendersi con la stessa tecnologia perché comunque di questo si tratta e tecnologia l'uomo l'ha sviluppata profondamente anche per una pigrizia che abbiamo tendiamo a risparmiarci quindi la nostra pigrizia ha fatto sviluppare tecnologia la stessa polvere da sparo è nata dalla pigrizia per andare a caccia sparare ad animale era più semplice però poi le stesse cartucce sono state usate da chi voleva fare crimini e sono usate da chi deve reprimere crimini quindi giustamente quell'osservazione mi è piaciuta però è buffo doversi difendere con la stessa moneta per quanto riguarda l'educazione da genitore mi trovo molto in difficoltà ad insegnare a miei figli come potersi difendere adesso perché mentre i nostri genitori conoscevano che ne so il traffico automobilistico e ci insegnavano a attraversare la strada io da genitore trovo difficoltà a difendermi io stesso e avendo figli adolescenzi ho molta difficoltà a filtrargli ciò che possono vedere anche solo su un banale social ed è veramente impossibile un'altra considerazione che mi piaceva fare appunto non ho così paura di questa tecnologia io sono appassionato di serie tv ho visto black mirror che probabilmente conosci e lì ti fa vedere tanti aspetti che in parte quando l'hanno creata erano futuristici adesso ci siamo anche appunto la considerazione diciamo digitale o artificiale delle nostre emozioni in quella puntata dove si danno i voti a vicenda è veramente interessante consiglio di vederla a chi non l'ha vista ti fa capire che poi finché vai bene vai bene ma basta una negazione da parte di un altro e ti senti veramente spaisato ecco queste sono le considerazioni difficoltà da genitori fiducia nella tecnologia per ostacolare noi stessi in fondo e l'aspetto appunto della criticità e la nostra possibilità di essere metro di giudizio umano al quale la macchina probabilmente non arriverà mai ma mai dire mai perché già quello che adesso tocchiamo con mano tutti i giorni penso che era impensabile immaginarla anche per me che ho 45 anni non avrei mai immaginato di avere uno strumento in tasca che fa tutto bene meno che telefonare e tutto quanto in questo caso ringrazio ancora questa bellissima serata perché per quanto mi riguarda è stata profonda interessante mi ha di nuovo aperto tante tante idee flessioni da fare su questo tema grazie mille grazie buonasera io a differenza di lui sono piuttosto preoccupato non mi piace questa questa via io parto da un'idea l'evoluzione biologica del nostro cervello è lentissima ad arrivare a queste nostre qualità questa capacità cerebrale quanti milioni d'anni ci abbiamo messo quindi oggi il cervello umano non progredisce più ha quei limiti direi anche di ingombro quindi nei tempi brevi è fermo ora mi sembra di aver letto che una via di potenziamento del cervello potrebbe essere quella di farlo collochiare con le macchine cioè con un chip o con qualcosa io non sono un tecnico del genere il cervello si impadronirebbe di tutta la conoscenza che può essere in una macchina però c'è un'altra cosa che questa è una via di andata e ritorno cioè la macchina si impossessa di quello che è nel cervello almeno questa sembra una teoria ma allora non è questo allora il nostro cervello che cosa ha più della macchina mi sembra di capire la coscienza la capacità di emozioni quella che manchino a quelle macchine che lei ha descritto per impadronirsi di tutto nel momento in cui noi vogliamo utilizzare loro attraverso questo canale in realtà rischiamo che loro si impadroniscono di noi acquisiscano la nostra perché come è una forma di specchio di emulazione di formazione gli diamo l'immagine nostra e a quel punto sono loro la nuova generazione che guida la terra saremo quei moscerini che lei ha detto prima io è pessimista questo non lo so direi questo è difficile capire con esattezza immaginarsi uno se questo sarà mai possibile e due per quello che le dicevo prima perché la macchina resta sempre un manipolatore di cose finite mentre c'è un'evidenza che il cervello gestisca il tutto in analogico quindi con insiemi matematicamente infiniti ed è per questo che si aspetta il computer quantico fondamentalmente se poi un cervello dialogherà mai direttamente con un computer quantico guardi non sono in grado nemmeno di immaginarmela una cosa di questo genere non saprei se abbiamo le basi tecnologiche qui dire sì o dire no fondamentalmente significa tirare in area una moneta ora come ora la nostra capacità di prevedere come si evolverà le tecnologie non riesce più nemmeno a coprire uno span di tre anni noi io quando ho cominciato ad occuparmi di queste nuove macchine già dal 2012 e ho rifatto il 60% delle slide del mio corso allora non immaginavo che nemmeno dieci anni dopo avrei dovuto riscrivere altrettanto per l'evoluzione di queste macchine questo mi spaventa c'è un divario tra la velocità e la nostra è uno scenario ipotizzabile francamente non le so dire se abbiamo una base tecnologica per farlo ancora non credo e poi il domani ripeto sì sì a voglia io ho dei colleghi che lavorano sulle interfacce dirette tra parte biologica e parte digitale ho amici che ci lavorano anche nella vicina Svizzera però siamo dire sì o dire no non saprei a lei ci sono altre richieste sì mi scusi lei ha detto tante cose interessanti belle praticamente per me almeno molto tristi perché sono ormai arrivato a un pezzo in là nella vita e mi sembra che non sia un bel mondo io sono una biologa e come tale ho sempre avuto una grande fiducia nel cervello nella vita e in tutto quanto adesso questo mondo sta veramente cambiando in una maniera incredibile allora tutta questa tecnologia non potrebbe andare non potrebbe essere messa a frutto per stabilire un qualcosa che ci aiutasse a modificare le nostre azioni nei confronti del pianeta perché abbiamo solo questo e mi sembra che questo sia un problema così talmente grosso che forse l'uomo non arriva a farlo però la tecnologia se così avanzata potrebbe forse darci una mano e essere forse anche un pochino adofrata in modo più giusto nei confronti di tutti e non parlo solo del mondo occidentale che sta bene ma di parlo di tutto quel mondo che bene non sta sì sì assolutamente cioè io condivido questa visione e anche questa speranza l'osservazione è che nuovamente che cosa viene fuori che c'è bisogno di un indirizzo e il punto poi alla fine io sarò fissato su questo discorso insegniamo l'etica ai nostri figli ma io credo che senza quella roba là perché capito se poi dopo prevale un'ottica in cui quello che mi interessa è avere io ho tanta Ferrari e ho bambini che muoiono da quell'altra parte se funziona così perché si allontani allora io l'intelligenza artificiale la voglio perché così ho 160 Ferrari invece di 80 cioè ottimizzo il mio e chi è che può chi è che può spingere le persone a rinunciare a parte di a favore di una collettività un pensiero superiore che è la parte poi più bella dell'uomo che la macchina secondo me queste non ce l'hanno di sicuro ma noi ce l'abbiamo che è la capacità di concepire qualche cosa che va oltre il bene individuale oltre la massimizzazione dell'economia del singolo oramai gli economisti ce l'hanno insegnate si può ottimizzare un po' per tutti se tutti rinunciano a un pezzettino e si sta meglio tutti se sta bene solo uno quello sta benissimo però mediamente si sta peggio tutti è così quindi la mia risposta purtroppo è una no risposta mi rendo conto che non ha presa perché non ho una risposta non sono un politico non sono nemmeno che posso dire forse Musk se mette un po' di miliardi Musk è quello che ha fatto GPT ci ha messo un miliardo di euro sopra insieme a un altro poi ora l'ha lasciato ecco se lui si convincesse bisogna andare da lui parlargli parlargli senta io ritorno su le sue conclusioni siccome sono stato un manager sono abituato arrivare poi a come si gestiscono i problemi eccetera mi è piaciuto che lei abbia scritto nelle conclusioni bisogna si dovrebbe fare così l'etica di qua parapa parapa praticamente l'ha detto anche ora ci vuole qualcuno che dia una direzione che abbia una visione superiore ma chi ci crede a queste cose cioè se chi ha i soldi vince perché mette dentro gestisce orienta eccetera stiamo in presenza di una guerra ma se il mondo finisce anche voi lo dirà se il mondo finisce lui non si preoccupa che ha 64 anni io e te figuriamoci però voglio dire mi sembra che con questi computer quantici qui siamo in presenza di uno sviluppo esponenziale della tecnica che potrà portare anche qualche beneficio in termini operativi ma io sono più preoccupato dei problemi che può creare e conseguentemente sono anche un po' pessimista perché anche io sono della sua idea bisognerebbe mi sembra di sentire il Papa Francesco che predica bene ma nessuno se lo fila e continuano ad ammazzarsi tra di loro eccetera eccetera quindi non è che vada a casa così rasserenato da questa sua cosa eccetera molto francamente fra l'altro non volevo essere rassenerante ho cercato di fare una fotografia se mi è riuscito e poi la capisco io e condivido anch'io vedo ma nessuno ma io non credo che sia solo quello io le dico macroscopicamente insegno dall'università da sempre ho insegnato in tante sedi al nord al centro ho insegnato ho visto genie di studenti gli studenti di ora a parte la coda che io chiamo la alfa coda quelli sono bravi a prescindere quelli sono già bravi di suo la media inizia ad esibire delle difficoltà difficoltà che io credo siano legate anche proprio al come ci si rapporta proprio con questi media un impoverimento del linguaggio lo sapete io ho proposto la mia facoltà provocatoriamente di rintrodurre nell'esame d'accesso l'esame di italiano ma guardate è una roba da urlo la mia moglie lo sa perché io poi mi arrabbio mi mandano le tesi quattro giorni prima perché si vogliono laureare se no mi laureano della roba lasciamo perdere e questa è la cosa che si diceva prima la povertà del linguaggio non è solo povertà di linguaggio non posso concepire cose alte se ho un linguaggio povero non è un caso che addirittura coloro che volevano utilizzare il linguaggio lo impoverivano apposta per controllare non è un caso quindi tutte mi sembra di fare il grillo parlante e non è il mio ruolo perché onestamente sono un uomo come tutti noi e molto pieno di difetti peraltro però questa cosa qua si bisogna ritrovare il modo anche nelle scuole proprio nelle scuole primarie nelle scuole secondarie di rialzare un attimino questa parte la famiglia io ho detto il disastro fatto sulle famiglie non c'entriamo perché guardi è una cosa quella è stato un errore pazzesco posso concludere con una concludere per me non per voi mi sembra di essere tornati a quei dibattiti che c'erano negli anni 50 dopo l'esplosione della bomba atomica negli anni 50 come lei pensava ci fu quel famoso manifesto firmato da Einstein e da altri avvertiva le autorità mondiali del pericolo dell'uso della bomba atomica allora sarebbe il caso anche se utopistico che a livello almeno europeo ci fossero ci fossero ci fosse la sottoscrizione di un manifesto da parte di chi come lei e di altri docenti universitari pensa che il controllo delle informazioni e dei database su cui agisce il futuro GP3 4 5 6 8 9 che già si sta scrivendo in maniera tale che come diceva prima una signora i database che oggi sono inquinati da razzismo o di fake news eccetera vengono integrati con dosi massive di informazioni diciamo così etiche in modo da contrabilanciare l'altra parte che ormai c'è e sulla quale funzionano queste cose si sta facendo eh gli scienziati stanno lavorando ci sono dei progetti che tendono a bonificare tutte queste cose qua eh si stanno facendo questa è una notizia buona una nota di ottimismo diciamo così credo che questo potrebbe migliorare le macchine ma non migliorerà sicuramente né i nostri figli né né i nostri compagni di viaggio su questa terra io penso che una riflessione su questo vada fatta veramente sia importante nelle scuole e poi io sono un fautore della famiglia per me resta l'unico nucleo in cui si impara il pre sociale non è che uno nasce socializzato o attento all'altro qualcuno te lo deve insegnare e i social non è il posto migliore in cui io posso anzi i nostri ragazzi stanno facendo un'esperienza che è incredibile l'autoreferenza completa quando io faccio un'esperienza di social chi è che deve stare bene io l'altro è virtualizzato è esterno quindi io mi abituo al fatto che se sto bene io sta bene il mondo perché l'altro nemmeno lo vedo più e sono troppi diversi arrivano da tutte le parti questo sembra che non abbia conseguenza ma non ha conseguenza se uno è già stato educato a filtrare le cose per cui sento molti giovani che quando parlo così mi dicono te non hai capito niente il solito vecchietto bene vero però se tu prendi quello ancora più giovane di te che vive lì dentro fin dall'inizio e non conosce altro spiegami dov'è che sperimenta il sociale spiegami dov'è che sperimenta l'essere amato disinteressatamente dentro i social che basta che tu faccia una virgola e ti sdrucinano allora queste cose non lasciano traccia zero io per esempio vedo che i miei studenti a parte la frazione alfa che quella è bravissima splendidi ne ho ancora di perle il resto ragazzi boh fa fatica sta peggiorando un po' sta scendendo anche perché non ha più bisogno questa è un'altra cosa morte del desiderio insomma io non vi voglio trattenere più di tanto ecco insomma grazie a voi che avete resistito grazie